3 minuti di un eservizio televisivo non bastano per raccontarvi l'edizione 2022 di Degusta Morbegno aspettando le cantine, ma questo più alla nostra incapacità nel fare sintesi è dovuto proprio all'articolato programma proposto dalla Proloco di Morbegno, però noi ci proviamo. Ecco innanzitutto segnatevi sul calendario sabato 24, domenica 25 settembre, poi sabato primo e domenica 2 ottobre e ancora sabato 8 e domenica 9 ottobre. Tre fine settimana di degustazioni di vini valtellinesi coinvolgendo Palazzo Malacrida, l'ex convento e le cantine più caratteristiche perché anche l'occhio vuole la sua parte. Per quanto riguarda le novità di quest'anno cosa possiamo dire? Possiamo dire che il percorso di trekking tra chiese e palazzi porterà i clienti in giro per il centro storico di Morbegno a visitare con una guida certificata le bellezze della nostra città con un aperitivo al Palazzo Volker con lo storico ribelle. L'altra novità è l'apertura delle cantine perché alla fine quello che conta è la cantina in sé come luogo di culto dell'enogastronomia e del contenuto dei prodotti tipici con il buon vino che verrà somministrato in una manifestazione che alzerà il livello qualitativo dell'offerta. Presidente, quando il dibattito politico, le polemiche fra maggioranza e minoranza entrano a piedi uniti su temi come Morbegno in cantina o questi altri avvenimenti, eventi appunto fatti per promozionare la città di Morbegno, qual è il sentimento che prova? Presiedo la Proloco Morbegno da ormai quasi dieci anni e ne sono passate di amministrazione, ne sono passate di polemiche ma abbiamo sempre cercato di guardare avanti, non è stato facile per tante volte ma alla fine abbiamo sempre alzato la testa e fieri di quello che facciamo e di quello che siamo proprio nel rispetto di chi ci sostiene. E sul tema non sono state casuali le parole che il presidente della sala ha speso a favore del consigliere della Proloco Mauro Monti. Il sindaco Alberto Gavazzi ringraziando la Proloco di Morbegno fa invece leva sul senso di responsabilità da parte di tutti e ricorda come questi eventi siano preziosi per la città e per le associazioni. Si sta dimostrando e sta dimostrando in questo caso la Proloco di affrontare con il dovuto equilibrio ma con la dovuta professionalità anche un servizio alla città che continua ad essere importante. Da calici in convento, visita guidata con aperitivo e qui siamo al Malacrida, poi ancora quattro calici in quattro cantine, l'itinerario fra chiese e palazzi, il trekking in costiera, ecco De Gusta Morbegno, evento che rappresenta un volano anche per i commercianti. Questa manifestazione che vuole rilanciare l'autunno morbegnese e credo che sia la formula giusta con eventi che coniugano la città, la visita alla città, la visita alle cantine e sono un'attrattiva importante per i morbegnesi, per tutta la Valtellina ma soprattutto per il circondario e l'interland milanese che abbiamo già visto da questi primi giorni con le prenotazioni online si sono e si stanno frettando a prenotare i posti. Rovagnatic ha così introdotto al tema pass, bicchieri e prenotazioni e allora noi vi rimandiamo al sito www.degustamorbegno.it per trovare tutte le informazioni, anche quelle che non vi abbiamo detto in questo breve servizio.